oggi siamo qui oggi siamo qui in una survival bellissima stavolta non ho messo niente siamo spawnati su questo blocco ancora stavo aprendo il mondo poi questo è un seed che ho trovato su un'applicazione di seed per minecraft e stavolta io non ho aggiunto nessuna mod solo aperto il mondo c'era scritto che c'era un villaggio qua vicino il villaggio della foresta ecco se io cado su sto punzone ma io non vedo nessun villaggio mi sa che mi hanno truffato leggermente si pagava pure è costata 3 euro sto mondo non è vero non costava un cacchio però mi hanno solo fatto vedere mi hanno fatto vedere una pubblicità di 30 secondi per scaricare il mondo boh io non vedo nessun villaggio non mi sembra ci sia un villaggio però era una foresta questa è pianura era la taiga penso di sì ci capisce niente mettiamo il puntatore però attenzione questo sarà un video con il puntatore tocca puntatore ok perché ci abbiamo non lo so che ci abbiamo poi qua qua ancora c'è tutte le mod vedete quella del tartaruga esplosive quella delle dnt quella della vampir craft poi c'è una spada non so qual è quella poi c'è quella degli enchanted biomes c'è la forniture craft non lo so poi come si mette la render distance più alta che fa gioco devo andare giù e mi sa che devo chiudere il mondo vabbè non ce ne frega niente a noi vediamo se riesco a uccidere la mucca con il puntatore sì sì come no non riesco a uccidere niente con il puntatore non mi ci trovo proprio raga però vabbè voi dire che devo usare il puntatore usiamo il puntatore per questo video vediamo un po che cosa succederà se muoio tanto lo sapete se muoio tolgo il puntatore ovviamente però non lo trovo sto villaggio di merda chissà dove l'hanno messo eh già non c'è mi hanno truffato iniziamo a prendere i letti va ecco fatto qua c'è il pecorino che non lo prendiamo eh se non andiamo a fare la spesa con francovap qua c'è il pecorino che non lo prendiamo perché ci fa cagare no il pecorino è molto buono però su alcuni tipi di pasta eh sì proprio qua in questa laguna mi devo buttare io eh tanto ce l'ho il cibo eh non vi preoccupate se sto a prendere danno e vi preoccupate che non posso rigenerare vabbè ce l'ho pure in mano il cibo penso che l'avevate visto no se non l'avevate visto siete imbecilli ecco qua come me no io non l'avevo visto come no mangiamolo pure eh mamma mia e che volume alto chissà se si potrà abbassare ecco fatto chissà se si potrà abbassare il volume solo di quando si mangia ok comunque uno di lana ce l'abbiamo poi dobbiamo comunque qua sotto c'è una miniera un altro pugno sì ho pure piantato un seme qua un seme eh boh ormai ormai era morto non è una buona idea mi posso fare questo con le mani vabbè prendiamo un po' di legna non abbiamo trovato il villaggio vedete avete letto pure il nome del mondo prima forest village 2 e non c'è il villaggio della foresta mi sembra o non l'ho trovato io boh vabbè o non funzionava per la versione boh non lo so perché io ho l'ultima versione vabbè non ce ne frega prima di inoltrarci nella foresta vediamo se troviamo siren head eh sì siren head senza mod troviamo sì sì adesso abbiamo pure un tronco che prendiamo ok vediamo se troviamo il villaggio più o meno noi siamo spawnati da quella parte quindi vediamo un po' abbiamo trovato dei lupi aggressivi contro delle volpi ma a noi non ce ne frega un cacchio delle volpi anche se mi piacciono le volpi però non ce ne frega o vogliamo salvare le volpi no ma che salviamo le molpi ma che se ne frega delle molpi marmotte no molpi ma che cacchio sto a dire boh mi sono imbazzito boh imbazzito proprio c'è una volpe infreddolita qua sotto come era bella come la morte ecco ho finito il cibo no non ho finito il cibo ce l'ho però non me lo deve andare a mangiare mangiamo quindi ok siamo già a 5 minuti ancora non deve venire ecco ho rotto proprio il cespuglio perché sono stupido tanto la lana ce l'abbiamo chi se ne frega tanto per il letto ci bastano 3 attenzione qua c'è la mia nera tanto posso che ci scaviamo un buco sotto terra no dai sarebbe proprio brutto scavarsi un buco sotto terra dai mangiamo mancano ancora circa 4 minuti alla notte no di meno 3 minuti alla notte c'è mia mamma che strilla non lo so perché forse io ho fatto qualcosa io ho rotto il telefono morisce ma che non so vero che lo scrego che cavolo hai fatto per non dire un'altra cosa che lei però avrebbe detto una parolaccia perché è molto stupida come accadendo che cavolo hai combinato il telefono mio perché hai inserito il schermo e te l'hai sbattuto in terra ma come hai sbattuto in terra sto scemo mi hai sbattuto in terra il telefono perché lei ecco non sta bene lo sapevo qui come dice ma che hai rottuto il telefono cosa hai fatto vabbè ci sono giocato meglio del previsto con il puntatore eccola sta bene ah noi ha gioluto lo telefono per fortuna il vaiolo ho capito io ho capito il vaiolo sinceramente vabbè qua sotto poi non si vede un gran che eh comunque abbiamo trovato del ferro il vaiolo ho capito io però vabbè ah questo qua sopra è ferro ma non si vede proprio un cacchio cioè boh io non vedevo niente sinceramente non so voi se vedevate qualcosa ma adesso almeno mi posso far l'ascia di legno ecco basta non consiglio la troppa pietra perché ora ci dobbiamo fare l'ascia di legno eh di legno si di legno che aveva trovato mi sa fare sempre l'ascia di legno io non me la son mai fatta l'ascia di legno perché non ci serve l'ascia di legno è più o meno come la prima no in realtà me la son fatta nell'episodio del vanilla nell'episodio 7 del vanilla craft della prima stagione che poi è finita pure la seconda stagione però vabbè capita no a cibo stiamo messi abbastanza bene perché qua vicino ci stanno le bacche quindi le prendiamo là il cibo è a legno che non stiamo tanto messi bene ma tanto a noi non ce ne frega perché se viene la notte noi abbiamo la lana mettiamo il letto per terra e dormiamo che il villaggio non l'abbiamo trovato e poi la mattina precedente ma tanto manca un minuto la notte manca un minuto la notte ecco ci abbiamo trovato pure un sapling un sapling sarebbe tua sorella si è grassa questo sapling questo sapling è magro però vabbè che poi non so il combattere io con il puntatore ecco la mia difficoltà però non fa niente oddio sto a cadere qua sotto comunque prendiamo la crafting table andiamo giù vediamo se troviamo del carbone poi a 10 minuti del video proviamo a dormire per vedere se è noto vabbè qua non ci sta niente di carbone prendiamo qua qua già abbiamo più o meno una scala sento una strega ok qua non c'è la strega ma abbiamo mia mamma ha distrutto tutto si è sentito un bordello in cucina ha fatto tipo e ora sta a cercare di accendere il gas con un accendino che non funziona perché noi non abbiamo i soldi per lo comprare che costano tipo un euro che ne so quanto costano i accendini 80 centesimi ok comunque adesso proviamo a dormire vediamo se fuori è notte voglio che è notte ok quindi proviamo a farci il letto si il letto lo possiamo fare con 3 3 e dormiamo così poi la mattina della successiva prendiamo il carbone eh il ferro scusa sento anche affogati eh affogati negati rigenerati prima si chiamava sono scemi stanno usci pure fuori dall'acqua forse mi veni a prendere stanotte non lo so perché adesso sono le 17 e 57 mia mamma penso che sta preparando a mangiare quando avete sentito BOOM quando ho sentito BOOM perché poi si capisce niente dai che quando sta preparando a mangiare quando sta oddio poi non mi attaccava neanche per qualche strano motivo ok questo sarà tipo messa survival però taiga survival no miniera survival ma che miniera survival questo è solo un episodio della nuova serie però solo un episodio della nuova serie proviamo seed online proviamo seed trovati online comunque iniziamo a cucinare questa carne sì con la fornace no con il campfire non lo volevo fare è giubiazzata pure come combustibile usiamo il piccone e poi il legno perché io brucio sempre i picconi perché sono un piccorifero che ho detto un piccorifero non penso che esistono i piccorifero però si mangiano i picconi volevo dire un piccorifero sono un pettirossifero mangio i pettini i pettini i pettini di pollo insieme a tua sorella mangio i pettini di pollo insieme a tua sorella ok penso di aver detto una cosa brutta però vabbè non ce ne frega prendiamo la fornace ecco magari spaccala tutta prima di posare il piccone ok eh vabbè qua non è la caverna dove stava la caverna che ho visto prima eccola ok andiamo qua perché questo episodio questa serie troviamo mondi online troviamo mondi troviamo seed online più che altro ci potremmo fare anche delle torce no o siamo troppo poveri eh francopte francopte ho detto però vabbè non fa niente no ora prendo pure l'altra pietra e ci facciamo l'altra fornace iniziamo a sciogliere il ferro così illumina pure e iniziamo a mettere le torce pure qua sotto qua dobbiamo tappare l'acqua andiamo a tappare ok e andiamo a picconare questo ferro adesso con minimo finisco nella lava ok eh sì la lava così basta non ci sta altre fonti qua ci stanno minchia eh scusate ok mo penso eh ma che cacchio è successo qua un allagamento totale è successo penso ok è finito l'allagamento di noi ci sta altro ferro però aggiungo questo che ho preso che ormai questo si sarà cucinato quasi tutto esatto andiamo a picconare l'altro ferro e a 15 minuti 16 minuti chiudiamo come al solito io non voglio fare i video di 20 minuti più perché tanto nessuno se li vede di 20 minuti a voi vi piacciono più di 10 minuti però dato che 10 minuti per me è troppo poco facciamo 15 16 minuti sempre ok sta miniera pure non ha portato nessun mob stranamente per fortuna aggiungerei aggiungiamo il restante ferro e prendiamo no l'altro legno no scortechiamo un albero un po' ecco qua per consumare un po' l'ascia si scortechiamo l'albero si ecco qua l'albero scortecciato si che tra l'altro è più facile da rompere l'albero scortecciato non lo so in realtà l'ho sparato a caso mi sembra leggermente più veloce però non lo so perché ah posso prendere pure un'altra pietra dato che mi ci trovo adesso che aspetto che si cucina il ferro prendiamoci pure l'altra pietra no intelligentone di Franco di un Franco Spaces ok perfetto io penso che sta pietra qua va bene no ancora abbiamo ancora aspettato un bel po' di tempo ok prendiamo pure un altro po' di carbone che ci servirà per fare le torce che io ho paura del buio su Minecraft si perché ti spawnano i mob addosso nella vita reale almeno non ti spawnano i mob addosso ma ti zaccagna la witch la witch si la witch oddio la witch ti zaccagna nella vita reale la witch non penso proprio le yanare ci stanno nella vita reale che le yanare sarebbero delle vecchie rincoglionite che ti vengono in casa e ti ammazzano la notte eh si la fornace con l'ascia un po' si Franco Spaces sarò un esempio le fornaci con l'ascia ok continuiamo un po' ad esplorare dai facciamo 20 minuti e basta poi ci fermiamo qua perché sennò dobbiamo fare un secondo episodio io non voglio fare un secondo episodio sempre con lo stesso mondo quindi va bene così dai scusate tutti gli amanti degli animali di minecraft ok eh si sono spaccato tutto eh eh dove stavano quei lupi non pestate le volpi bastiani non pesta la volpe oh non pesta la volpe questo bastiano non si pesta la volpe quindi io spero che questo video vi sia piaciuto però dovremmo fare un secondo episodio per forza eh perché questo mondo mi sta piacendo come sta andando facciamo che cerchiamo di arrivare nel nether eh nel nether si nel nether si pure il coniglio vuoi menà pure il coniglio vuoi menà pure il coniglio vuoi menà state ha menato il coniglio ha menato il coniglio non ci posso credere quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace nel prossimo episodio cercheremo di arrivare nel nether e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao